Musica Buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento con il 56 Live. Sono tanti gli argomenti che aggiorneremo e approfondiremo di qui sino alle 21. Le questioni che riguardano la nostra città, ci sono risvolti importanti nelle indagini sull'omicidio Fanella, il broker vicino a Mogbel che è stato ucciso alcuni mesi fa. E poi il Consiglio di Stato che ribalta una decisione del Tar su Malagrotta, in realtà torna in vita un'ordinanza dell'ex sindaco alemanno che imponeva alla società che gestisce, che ha gestito l'impianto di Malagrotta, di impegnarsi anche nella bonifica. Tanti argomenti che affronteremo nei nostri notiziari. Ampia, ve lo annuncio, la pagina sportiva è interessante perché sentiremo le parole e le giustificazioni dal direttore sportivo della Roma Sabatini, le prime parole da giocatore della Roma di Ibarbo e poi le ultime anche da Formello per la Lazio. Però in apertura c'è la politica nazionale, non potrebbe essere, altrimenti vediamo un esempio, l'apertura di Repubblica nel nostro giro d'orizzonte sui principali portali di informazione, ma questa apertura potremmo vederla identica su tutti gli altri siti che si occupano di politica nazionale. Salta il patto del Nazareno, Forza Italia non è più vincolante, questo è il virgolettato che emerge da una nota dell'ufficio di Presidenza, dal PD rispondono meglio così, siamo contenti tutti e Orfini, il Presidente del PD dice le riforme ora saranno più facili. Continua però la tensione all'Italia e Forza Italia è confitto a zerare la dirigenza del partito. Andiamo con ordine, analizzeremo questi aspetti legati alla stretta attualità, ma anche la situazione interna al centro-destra, torneremo sull'elezione e il discorso di insediamento di Mattarella. Di tutto questo parleremo con il Segretario nazionale della destra, Francesco Storace, che è già ospite dei nostri studi. Buonasera. Grazie, grazie per aver accettato il nostro invito. Insomma, la prima domanda è proprio sull'attualità. Come legge le novità della giornata di oggi? Perché un riavvicinamento dopo lo strappo sul Quirinale sembrava esserci stato invece. Ma guardi, prevalgono anche dinamiche interne agli schieramenti dei partiti. Facita, faccia feroce come si dice, no? Una moina. Per cui è chiaro che Berlusconi se convoca un organo non so quale ha convocato di partito, non è che può far finta che non è successo nulla. Perché se davvero fosse rotto il patto del Nazareno dovrebbero accadere due cose. Renzi non avrebbe più l'alibi per dire alla sua minoranza interna che i capilista bloccati li voleva Berlusconi. Adesso c'è il terreno libero per dare al popolo la possibilità di votare anche scegliendo se il capolista va bene o va male dell'Italicum e togliendo anche dall'imbarazzo il Presidente della Repubblica, ma su questo magari immagino che ci torneremo. La seconda questione è quella che riguarda la riforma del Senato. Proprio al Senato quando tornerà nella navetta prevista dalla Costituzione, dalla Camera del Senato, la legge costituzionale, non ci sono i numeri per approvare una riforma indecorosa del Senato. La riforma costituzionale ci sono due questioni sulle quali c'è stato un errore di valutazione da parte di Forza Italia. Il primo nel non porre la questione dell'abolizione del Senato, perché adesso si è semplicemente puntato su un Senato dominato alla sinistra perché sono i membri delle regioni che eleggono i senatori, la maggioranza, la stragrande maggioranza delle regioni. Ci sono solo tre a destra, Veneto, Lombardia e Campania. Due, questi senatori avranno anche l'immunità parlamentare, credo che gli esempi che abbiamo visto non sono esattamente dei migliori. Tre, è della cosa più importante, manca il presidenzialismo. Ora hanno votato degli emendamenti sul presidenzialismo, ma il fatto che sono stati bocciati non impone le forze di dover bocciare la riforma? Il presidenzialismo è quello che dà lo scettro al popolo. Il popolo avrebbe mai scelto Mattarella? Ci arriveremo, ci arriveremo a Mattarella. Prima parola le faccio sentire Toti, portavoce di Forza Italia, consigliare politico di Silvio Berlusconi, che oggi di fronte ai cronisti ha detto quello che sentiamo adesso. Le riforme, così come erano state avviate, come abbiamo intrapreso questo cammino in accordo con le forze di maggioranza, stando noi all'opposizione, cosa che è stata ribadita anche oggi dal Comitato di Presidenza, oggi è un cammino diverso. Valuteremo di volta in volta cosa verrà proposto, valuteremo, voteremo quello che riteniamo utile al Paese, come abbiamo sempre fatto, anche con altri governi quando stavamo all'opposizione, ma non ci sentiamo più legati da questo percorso condiviso di riforme, perché il Partito Democratico non può pretendere di condividere a intermittenza le scelte che riguardano le nostre istituzioni. Il patto del Nazareno è rotto? Il patto del Nazareno, così come l'avevamo interpretato fino a oggi, noi lo riteniamo rotto, preferite se scegliete voi come possiamo dire, congelato, finito. La difficoltà con i numeri del governo Renzi dalla prossima settimana sulle riforme, ma anche su altro? Beh, guardi, stando ai numeri che abbiamo espresso fino ad oggi al Senato, mi sembra che non sarei così sereno. Forza Italia è stata determinante l'8 agosto per la riforma del Senato, è stata determinante per incardinare la legge elettorale, è stata determinante per consentire il numero legale e per l'approvazione della legge stessa, dopodiché il Parlamento, come dire, uno i numeri se li cerca come ritiene opportuno. Insomma, fin qui le dichiarazioni ufficiali, quelle di Toti, però oltre che allo storace politico, mi rivolgo ora anche al giornalista, bisogna fare più affidamento a quello che abbiamo appena sentito o ai retroscena giornalistici che invece vorrebbero, una forza Italia, in particolare Silvio Berlusconi, che insomma al di là della rottura più o meno ufficiale del patto del Nazareno ha tutto l'interesse a mantenere un buon rapporto con l'attuale governo, soprattutto con Renzi. Allora Berlusconi sconta sicuramente una sfiducia totale finalmente nei confronti di Alfano, ha capito che il soggetto è inaffidabile, voglio sperarlo perché altrimenti saremmo davvero al suicidio politico. Deve far vedere, l'abbiamo visto da Toti, che c'è un atteggiamento duro, ma le pare normale che un partito che sta all'opposizione ogni giorno è costretto a ribadire che sta all'opposizione, è il risultato dell'ufficio di presidenza, ha detto Toti. Io ho, si capisce, qualche posizione abbastanza critica nei confronti della linea seguita da Forza Italia, perché ho visto completamente cambiare i connotati di un movimento che doveva ripresentare quell'Italia, noi la chiamo sempre Italia liberale, l'Italia di centrodestra e in realtà è stata funzionale al disegno politico di Renzi. Le mali lingue raccontano che tra decreto fiscale e richieste varie che in queste ore sono state fatte anche in direzione al Quirinale, ci vorrebbe essere quel rotoscena a cui faceva riferimento lei, alziamo la posta e poi vediamo che succede. A me questo dispiace, perché vede, questo è un tema che affronto anche domani sull'editoriale del mio giornale, un giornale d'Italia online scriverò un pezzo intitolato Casa Italia, questa in Italia è un po' strana, per cui c'è sicuramente una sinistra che domina, non un centrosinistra e non c'è alternativa dall'altra parte, perché ciascuno sta pensando al suo 3%, qui è stato Abile Renzi a tirare l'esca all'opposizione e nessuno pensa a prendere il 51% per poter governare l'Italia. L'ho fatto l'articolo perché domenica prossima c'è una manifestazione al Teatro Adriano promossa dall'Associazione dell'Italia, quella della Rauti, però oggi in campo non c'è quella destra che abbiamo sognato noi, perché purtroppo ci sono stati troppi rancori, tutto quello che è successo in questi anni non si rimargira facilmente e soprattutto non c'è una gioventù carismatica, pronta a raccogliere l'appello o l'eredità. Allora bisogna prepararsi sul lungo percorso nel frattempo capire chi può rappresentare l'alternativa a Renzi e sono due medaglie, una si chiama Berlusconi, una si chiama Salvini e bisognerà decidere. Infatti in uno dei suoi editoriali di questi giorni, Palazzo, Popolo e lei questa dicotomia nel pezzo la individua proprio in Berlusconi e Salvini. La destra che è stata, ricordiamo, uno dei movimenti nel momento della dissoluzione del centro-destra che più ha cercato di dare spinta a Silvio Berlusconi per continuare la sua opera di unificazione del centro-destra. In questo momento invece la bilancia pende più verso la Lega? Guardi, in quell'articolo che lei ha ricordato cortesemente ho fatto un'analisi di scenario, non c'è ancora una scelta chiara perché voglio capire, mi interessa capire Berlusconi che vuole fare. Apre affitto, si fa un partito del centro-destra finalmente che si radica nel territorio, conterà più il popolo rispetto al Palazzo? Per esempio le dinamiche della legge elettorale non sono indifferenti a questo. Dall'altra parte Salvini racconta un'Italia che si vuole ribellare con un linguaggio diverso rispetto al passato, non parla più del nord, parla dell'Italia e dice cose che hanno un interesse anche per un uomo di destra. Io voglio capire come finisce questo film e come poter contribuire a farlo finire bene per l'Italia. La destra oggi non è identificabile come uno dei partiti che si devono presentare alle elezioni, è un soggetto politico, una comunità politica, però il nostro sogno non è fare un altro partitino di destra, no, non serve questo. Anche rinunciando all'identità della destra, faticosamente ricostruita dopo il popolo di libertà. Io faccio un altro ragionamento, qual è il contenitore in cui si può dire basta con l'eurocrazia? Qual è il contenitore dove si può dire battiamoci finalmente per la sovravità nazionale? Qual è il contenitore in cui si può dire basta l'invasione al terzo e quarto mondo che non sappiamo che cosa ci porta in casa? Ecco, già bastano questi tre elementi per definire una battaglia identitaria, dove si può portare questa identità? Riusciamo a fare una forza politica di destra? Finora chi l'ha fatta da solo non ci è riuscito, è stato il caso nostro, che abbia avuto successo ovviamente, il caso dello stesso Fini con future libertà e è stato il caso anche di Fratelli Italia che non ha avuto risultati esaltanti, diciamo. E che proprio invece in questa sua lettura sta avvicinandosi lentamente alle posizioni di Salvini. Però dimostra quello che dico io, non c'è il tempo per una testa organizzata oggi, può rinascere in futuro se sappiamo trovare le risorse nuove, interessanti, carismatiche, oggi dobbiamo scegliere quale contenitore, perché altrimenti se stiamo alla finestra, illudendoci che ognuno di noi possa essere autosufficiente, la partita finisce che Renzi gode per vent'anni. Però nel leggere anche i commenti che a questa posizione, insomma nel suo editoriale in cui proponeva questo scenario, i vostri lettori, i vostri simpatizzanti, i vostri elettori facevano, insomma c'era chi effettivamente a questa lettura dava peso ammettendo che era una riflessione in atto, altri invece dicevano insomma ma che adesso ci alleiamo con chi fino a pochi mesi fa bruciava il tricolore e chiedeva la secessione? Ma guardi la politica è evidente che deve risentire delle parole di ieri e dei fatti di oggi, se a me oggi dicono iscriviti alla Lega Nord e vado a leggere lo statuto, chiaro che dico non scherziamo, se nasce qualcosa di nuovo, anche io ho visto un certo interesse, ho scoperto con un certo interesse il linguaggio di Salvini in un'intervista recente al tempo, in cui lui ha detto io non voglio la somma delle sigle esistenti e comincio a parlare di un movimento politico nuovo, allora se la questione è questa e quindi le battaglie sono quelle a cui facevo riferimento prima, cominciamo insomma a doversi annusare per capire se a questo popolo possiamo finalmente offrire una rappresentanza vera del centrodestra, se no siamo fermi, è chiaro che ciascuno deve portare la propria pietra al cantiere, io poi come sono fatto non è che devo parlare con qualcuno perché voglio la garanzia di qualcosa, a me sono discorsi che odio, oggi nella politica la parola più usata è garanzia e carriera una volta è la militanza, come gli appartengo a quella scuola di ieri, ecco io vorrei poter capire quanta strada si può percorrere insieme, poi gli obiettivi che ognuno riesce a raggiungere se è bravo lui, non ti deve regalare a nessuno e siccome tra i miei obiettivi non c'è la poltrona a tutti i costi, io faccio il direttore di un giornale e ne sono felice, vedremo che cosa porterà la politica a destra nei prossimi mesi, intanto prepariamoci alle novità che possono venire pure da altri paesi, ad esempio? Se in Italia si va a votare davvero il 2018 e l'anno prima ci sono le presidenziali in Francia e se parte quel vento della Le Pen e si riflette anche qui, vanno cioè in archivio tutti i discorsi sul moderatismo, la gente si è arrabbiata e quindi forse una rappresentazione radicale della protesta a destra forse può essere premiata. Staremo a vedere questo scenario come si svilupperà, anche perché se dovesse, come alcuni analisti prevedono esserci un po' di ripresa economica, probabilmente le spinte anti-europeiste potrebbero segnare il passo tra due o tre anni. Guardi, intanto vediamo che l'America ricomincia a spendere, se questo avviene anche in Europa ci può essere una ripresa economica, ma siamo sicuri che è sufficiente questo? Perché se si dice questo è come la storia degli 80 euro, si scambia un popolo per un insieme di accattoni che stanno lì a farsi comprare, c'è anche un tema che riguarda il tema grande della sovranità, a casa nostra dobbiamo decidere noi o deve decidere la Merkel? Ieri il Presidente della Repubblica nel suo messaggio alle Camere, sarà poi il tema portante della seconda parte della nostra chiacchierata, si ha fatto un riferimento, un omaggio alla sovranità di cui interpreta il Parlamento, io molto rispetto a Mattarella, l'ho anche conosciuto negli anni di militanza parlamentare mia, quei sei anni che sono stato alla Camera, vorrei far rispettosamente notare al Capo dello Stato che la sovranità è del popolo, non del Parlamento, soprattutto di un Parlamento nominato, in cui non ce n'è solo uno a partire dal Presidente del Consiglio votato dai cittadini italiani. e questo è un vulnus, indubbiamente. Prima di chiudere questa parte e poi dopo ci concentreremo sul Presidente della Repubblica, faremo vedere anche la prima pagina del giornale d'Italia perché è interessante. Su Roma, questo scenario che lei ha fatto può in qualche modo riverberarsi anche sulla situazione della capitale? Diciamo che il governo regionale, lei poi siete anche in Consiglio regionale, è piuttosto blindato, insomma dubbi che arrivi alla fine del mandato Zingaretti ce ne sono pochi. Forse a Roma invece qualche movimento politico si comincia a intravedere e proprio alcune discese della Lega o di esponenti della Lega a Roma lascerebbero pensare che possa esserci l'idea di una coesione dei partiti di destra anche per proporre un nome alternativo a Marino a destra? Guardi, in regione probabilmente il clima è tranquillo semplicemente perché i giornali parlano poco della regione. Se si gira nei pronto soccorsi della città di Roma e anche del resto della regione c'è uno spettacolo allucinante. Che c'è però da 10-15 anni? Beh, oddio, c'è da quando si è deciso che deve valere il mito del risparmio a tutti i costi. La salute è un diritto, è un servizio, non un costo. Io sono orgoglioso di aver aperto ospedali, qui si chiudono, si privano di posti letto agli ospedali e il nome del debito. E ma sta roba non funziona perché poi la gente muore. Allora preferisco una regione che spende, invece una regione che deve chiudere tutto. Adesso questo succederà anche con i privati, sta succedendo di tutto nella sanità. Ed è una riflessione che va fatta, ma in profondità. Perché se noi paghiamo le tasse e non abbiamo i servizi, che ne paghiamo a fare le tasse? Zingaretti dice... Zingaretti si avvantaggia... Dice stiamo però per uscire dal commissariamento e quello darà un po' il via anche a nuovi investimenti finora sono chiacchiere. Io sono quello che ha fatto la campagna elettorale su questo tema. Ho presentato una mozione sul tema approvata all'unanimità, l'ha firmata anche Zingaretti. Dopo la mia firma c'è quella di Zingaretti dal Consiglio regionale. Quindi è un obiettivo condiviso. Voglio capire che succede però. Perché ad ora questi risultati non ci sono. Abbiamo le bellissime case della salute che sono chiuse, che il sabato e la domenica non sono frequentabili. Allora succede più modestia. E ovviamente Zingaretti poi è bravo perché non vuole apparire, sta sott'acqua. Non so se si può usare l'espressione gran paraculo, ma lo è. E quindi si figuri che poi ne combina tutti i colori. La settimana scorsa ha annunciato il grande gruppo consigliare del Partito Democratico alla Regione. Oggi in aula c'era ancora il gruppo PD e il gruppo dell'Istitio di Lazio. Quindi vuol dire che stanno, cioè, giocano quando dicono delle cose. Però poi i giornalisti non gli vanno appresso. Ma lei non ha promesso questa cosa. Marino è cosa diversa. Sulla sanità poi gli obiettivi verranno verificati anche. Ma per questo vedremo. Marino è anche un impiastro. Oggi c'è ritornato sopra sui rom, sui nomadi da aiutare. Che vuoi aiutare? E c'è gente che sta avvelenata con la proliferazione dei campi rom, con lo sbandamento sociale della città. Dobbiamo aiutare Marino a trovare un neurologo, curarsi. Perché sta diventando davvero ridicola la gestione della città. Anche quella storia dei vigili a Capodanno. Ci hanno raccontato cose turche. Io non so lei che ha fatto a Capodanno. Io stavo a Roma. Io tutto sto disastro nella città non l'ho visto. No, ma questo è stato detto da subito. Però, insomma, i numeri... No, io non ho da subito. È stata criminalizzata una categoria. No, quello sì. Che poi tutte le cose si sono andate bene. Poi è stato detto... Abbiamo dato l'immagine di una città in mano a dei predoni in divisa bianca. Ah, vabbè. Però un terzo... Eh, però... Non lo so. Un terzo di assenze dal lavoro... E' il comandante che doveva programmare questa roba. Guardi che su questa questione ci fanno male loro. E' come la storia della panda rossa, eh. Guardi. Insomma, Marino, il dove mette le mani fa danno. Allora... Vedremo perché anche le sigle sindacali confederali hanno preso le distanze da quell'attività. Eh, beh, ma lì c'è un'altra questione, no? Perché si vedono perdere il loro potere rappresentativo, perché ci sono altri sindacati che rappresentano i lavoratori della Polizia Municipale. Però, insomma, le opinioni sono legittime. Io quello che voglio dire è che è chiaro che ci dobbiamo porre il problema di costruire un'alternativa a questa amministrazione capitale. Oh, e quindi... A me quello che preoccupa è la carenza... Non dico che non siano bravi i consiglieri oggi in Campidoglio. Però non sento le urla, la rappresentazione del disagio della città in Campidoglio. In carità, hai fatto gran casino sulla delibera sui noni civili. Però sul tema della disoccupazione in questa città, della carenza dei servizi, su una politica che pensa ad altro rispetto ai bisogni reali, le case, e su tutto questo vedo grande assenza di intervento e di dibattito, favorito anche qui dai giornalici. C'è un conformismo che è pauroso. Sembra quasi che la sinistra impedisca alla libera informazione di poter fare il suo mestiere. Ci sia paura. Che il dibattito in Aula Giulio Cesare non sia più all'altezza di quello di 10-15 anni fa. È vero, per carità. Poi più che centrodestra, centrosinistra, è proprio l'impostazione dell'ultimo decennio. È anche un ricambio generazionale in Consiglio Comunale che probabilmente è alla base di questo. Prima però di ripassare alla pubblicità e poi parlare di Mattarella. Proprio dal punto di vista strettamente politico, Giorgia Meloni, Francesco Storace, sono nomi che possono trovare un ampio consenso a destra per poter sfidare questa amministrazione che, come diceva, non le piace? Guardi, non parlo degli altri perché non so se vogliono fare i candidati. La Meloni a domanda diretta non lo smettisce mai. Quando mi darà l'onore di parlare di questo argomento e di dirmi effettivamente faccio a faccio, io mi voglio candidare, verificheremo come stanno le cose. Ad oggi ne hanno parlato più i giornali. E lei? Ma io guardi, questa è una domanda che mi stanno facendo in questi giorni tantissime persone. Io non è che sono morendo dalla voglia di fare questa roba. A chi non piacerebbe? Ho l'orgoglio di essere uscito pulito rispetto a una storia incredibile, quella che abbiamo assistito con l'indagine di Pignatone. E secondo me molte accuse saranno ridimensionate anche per le personalità a partita dal sindaco, l'ex sindaco di Roma Alevanno. Però mi ha fatto piacere poter parlare a nome di una destra che è rimasta immune da quello scandalo. Probabilmente verranno alla luce responsabilità di personaggi che oggi ancora non sono toccati. E questo restituirà ulteriore credibilità a chi ha detto certe cose dall'inizio. Se dovesse capitare certo che io non ci rinuncerei, però non deve essere un'imposizione dall'altra. Ecco, questo voglio dire, ci deve essere la consapevolezza. Ecco perché io non mi pongo il problema. A me basta che ci sia un candidato che guardandolo in faccia sai che vuole vincere e governare bene. Io gli chiederei una cosa. tu devi starci dieci anni a Roma. Mi ne fa una promessa. Meno Tg1 e più Tg1 e più Tg1 56. Perché, vede, finché Roma è usata come il trampolino di lancio per la politica nazionale, perché è più importante la prima pagina del codice della sera, che è la cronaca del messaggero, è un errore fatale. Perché è quello che ha fatto Rutelli, quello che ha fatto messo alla città a testa bassa, meno cerimonie, più periferie e credo che questa sia una delle soluzioni su cui il sindaco del futuro dovrà impegnarsi. Chi toccherà avrà la mia mano. Ci fermiamo, pausa pubblicitaria e poi vedremo la prima pagina del giornale d'Italia di oggi e parleremo del Presidente della Repubblica. Tra poco. Tra via Collatina e via Prenestina, a due passi dal centro commerciale Roma Est, il gruppo Edoardo Caltagirone prosegue la vendita di nuovi fabbricati a Ponte di Nona. Abitazioni in pronta consegna. Venite a scegliere il vostro appartamento. Troverete ampie disponibilità di varie grandezze. I più piccoli, composti da salone con angolo cottura, camera da letto, bagno e un ampio balcone. I più grandi, con salone, cucina abitabile, due camere da letto, due bagni e balconi spaziosissimi. Gli attici con i loro grandissimi terrazzi sono unici per bellezza e panorama. Edifici rivestiti in cortina, curati in ogni particolare, realizzati secondo tecniche costruttive tradizionali e modernamente rifiniti con materiali di prima scelta. La vendita curata direttamente dal nostro personale vi permette di risparmiare i custi aggiuntivi di intermediazione. Diverse forme di pagamento, comode e personalizzate a seconda delle vostre esigenze, con mutui a condizioni straordinarie. Un'occasione irripetibile da non perdere. I nostri uffici vendita in Viale Francesco Caltagirone numero 243 e Via Giacomo Mattetrucco numero 144 sono sempre aperti, anche la domenica. 06 22 53 294 06 22 18 14 67 IC dove le case sono più belle. Quartieri sporchi, lavori infiniti, le strade non sono sicure, gli asili nido solo per pochi, i trasporti sono inadeguati, le liste d'attese in ospedale interminabili. Basta lo dico a Teleroma 56, su Twitter a Chioccio la Teleroma 56, sulla pagina Facebook di Teleroma 56 o via mail allo dico a Teleroma, Chioccio la Teleroma 56.tv Ancora insieme con il 56 Live, ancora insieme a Francesco Storace, segretario nazionale della destra e direttore del secolo d'Italia. Il giornale d'Italia. Scusi, il giornale d'Italia. Andiamo a vedere la prima pagina con una composizione fotografica che riguarda l'elezione del Presidente della Repubblica, lo scopriamo piano piano, insomma non è Sergio Mattarella ma Aldo Moro con il titolo aggiurato. Storace. Guardi, l'idea, noi abbiamo sempre queste fotografie che vivacizzano la prima pagina e l'idea del riferimento a Moro me l'ha data un estimatore di Mattarella, anzi due estimatori di Mattarella, Onorevole Fioroli, Onorevole Tabacci, che nei loro commenti hanno detto che sembrava Moro e in effetti è come se avesse giurato Moro. La differenza è che loro ne parlavano facendo complimenti a Mattarella, lei forse con la prima pagina. Io l'ho detto che sicuramente non è vilipendio per Mattarella perché insomma Moro per loro è un modello politico, un riferimento politico. Però perché ho voluto forzare giornalisticamente? Perché Mattarella è una gran brava persona, però mi sembra di essere tornato in apre storia. Per cui anche quel riferimento a cui dicevo prima sulla sovranità, sembra quasi che si sia scordato della legge elettorale che porta al suo nome, il Mattarellum, che era il faccia a faccia, uno contro uno nei collegi, il popolo guardava in faccia e decideva chi mandare. A me capitò, ad esempio nel 94 entrai in Parlamento, nel 96 quando si interruppe la legislatura dopo il famoso ribaltone, il governo Dini, fu l'anno che qui vinse Prodi e a Roma io vinsi in uno dei pochi, pochissimi collegi conquistati e riconquistati dal centro-destra. Chi era a Roma 1? A Balduina, Balduina Aurelio, con l'Aurelio che mi bocciava e la Balduina che mi premiava. E vinsi di poco e fu una soddisfazione enorme, mentre tutti perdono e vincono la soddisfazione. Giuro. Quella legge consentì questo miracolo. Oggi stai appeso alle liste bloccate. Il Presidente della Repubblica, io mi sarei aspettato, forse lo poteva dire in maniera fragorosa, non è lo stile dell'uomo, però adesso ce l'avrà questo problema, se davvero l'Italicum viene approvato, cioè se agli italiani viene riservata una quota del 20-30% di deputati da legge, solo di quelli del partito che vince, mentre tutti gli altri saranno bloccati le liste, insomma io credo che il Presidente della Repubblica ha una legge come questa, possa impugnarla. Io mi aspetto dal Presidente della Repubblica che dica qualcosa sul Senato, mi aspetto dal Presidente della Repubblica che ha dei gesti, hanno detto tutti l'arbitro, io ci sto al gioco, non è molto carino nei confronti di Napolitano. Lei dice che era un riferimento al predecessore. Se si insiste, i titoli dei giornali oggi erano moltissimi sull'arbitro, se si insiste su quello vuol dire che c'era la mancanza all'arbitro, vuol dire che prima non c'era, in effetti pochi hanno dubbi su questo e lo dico con rispetto perché poi non porto rancore con l'ex capo. Anche perché vuole riaprire adesso un'altra pagina con Napolitano. Anzi, guarda, io con Napolitano litigai, mi dispiace per quei sei mesi che la Magistratura mi ha dato, nonostante avessimo fatto pace con il Presidente della Repubblica, incomprensibile, però vedremo poi un appello che succederà. Il Parlamento sta addirittura cambiando la legge. Però non ce l'ho con Napolitano, però devi stare attento a Mattarella che gli italiani non ci avranno con lui finita la luna di miele, perché poi se fai l'arbitro devi sapere anche che c'hai un cartellino giallo e uno rosso, un taschino e prima o poi lo dovrai estrarre nei confronti del calciatore più falloso che c'è e che è il Premier. Guardi, lui ha detto una cosa importante, Mattarella, ecco perché è luce e ombra quel discorso. se è democristiano, ha detto attenzione con le deroghe sulla legislazione, linguaggio paludato da accademia, è una cosa proprio vecchia, però la sostanza basta decreti, io la traduco in regione e basta maximentamenti, cioè la deroga permanente, la fiducia continua, non si può fare più, perché c'è un signore che dice che farà l'arbitro, lo vedremo alla prova dei fatti, ecco perché a me non piace mai il pregiudizio, diciamo quando superi i 50 anni da qualche anno e hai la testa un po' più a posto, deve rivalere il giudizio sul pregiudizio e allora quindi il giudizio è sospeso perché dobbiamo vedere dopo le parole le fatti, ci marò, l'ho molto apprezzato, Napolitano ha fatto l'ultimo discorso a fine anno e sarebbe ascoltato, nel primo discorso di Mattarella sono stati ricordati, insomma io vedo qualche segnale di diversità, non dico che è cambiamento e che è cambiamento positivo, qualche segnale di diversità c'è. Però dal suo discorso mi sembra di capire che lei pensa che, insomma, nonostante Mattarella sia stato il candidato di Renzi, lo è stato pubblicamente, poi la convivenza possa non essere così semplice come molti pensano? Se alle parole seguono i fatti, io non posso pensare che Mattarella abbia pronunciato un discorso al Parlamento, lui che è uno che teorizza la sovranità nel Parlamento, non posso pensare che lui abbia detto il falso, alla prova dei fatti lo vedremo, perché poi ci saranno quando Renzi riporterà, oh Presidente, ecco un nuovo decreto e si dice fermati, sono dolori. Una previsione, Storace, decreto fiscale, le riforme istituzionali, quella elettorale e quella costituzionale del Senato, i decreti attuativi del Jobs Act possono essere scogli in Parlamento, soprattutto come evidente al Senato, se non ci fosse più quell'asse così forte con forza etaria nei momenti di difficoltà. E già, insomma, anche qui le richiamo di retroscena, si parla di un drappello di parlamentari che potrebbe andare in soccorso nel caso in cui i numeri venissero meno, però lei mi insegna, quando capitano queste cose poi la fine della legislatura è a un passo, lei che dà si è fatta? Guardi, che Renzi sogni di poter conquistare un Parlamento a sua immagine e somiglianza, credo che nessuno abbia il minimo dubbio. Che abbia riconquistato un pezzo di sondaggio favorevole nell'opinione pubblica è anche vero, anche se è un'operazione di palazzo, però lei immagini quanti poteri forti oggi stanno in fila di nuovo, voglio conoscere Renzi, cosa posso fare per il Premier. Dall'altra parte c'è questo centrodestra in rotta, è chiaro che di qua non c'è interesse di andare a votare, questa è la tragedia. E quei parlamentari sono pronti, no, per carità, non andare a votare. Allora non si programmano le elezioni anticipate, possono capitare e certe volte magari il risultato non è quello che ci si aspettava. Quindi la previsione che ho è che sono tutte le condizioni per andare a fine al 2018 e non c'ho io la fregola di ritornare in Parlamento, quindi non le dico con la sua serenità, però può capitare incidente di percorso. Il centrodestra o la destra italiana, se vogliamo includere anche la Lega in questo ragionamento, deve organizzarsi seriamente, non deve più giocare, deve contarsi per poter contare. Finora è stato solo contato e in maniera negativa. Tornando al discorso che abbiamo fatto in apertura di questa nostra chiacchierata, in questo momento insomma, con una, dovesse esserci una fine anticipata dalla legislatura, la destra, intesa come il vostro movimento, il vostro partito, ma anche insomma la destra più ampia del Paese, il suo elettorato sarebbe più per una prospettiva salviniana o berlusconiana. Tempo al tempo. Io credo che abbiamo tutto il diritto di organizzare la nostra proposta politica, vedendo lo scenario qual è. Io non voglio portare allo sbando quelle persone, quella comunità che crede in un progetto che è iniziato nel momento più difficile, perché noi iniziamo quando Berlusconi era al massimo livello. Non era facile contrastarlo e ci siamo avvicinati lui quando non stava proprio nella migliore delle condizioni. Quindi diciamo siamo stati anche un po' pazzi, però abbiamo fatto perché ci crediamo. Ecco, vorremmo continuare a credere. L'ultima fosse stata uno dei grandi elettori? Cosa avrebbe scritto sulla scheda? Guardi, io sarei stato tentato da scrivere il nome di Tiziano Renzi. Dice chi è? E' il papà. Il papà è un imprenditore che ha vantaggi dallo Stato nonostante i debiti che ha. iniziato. E nessuno fa una campagna di stampa che se fosse capitato a un qualunque esponente del centro-destra sarebbe stato iniziato. Se lei chiede un... Vicenda giudiziaria è aperta ancora, eh? Vicenda giudiziaria è ancora aperta. Anche con noi succedeva, eh? Sì, sì, sì. Ricordo quando mi sono dimestito io da Ministro e abbiamo abbastanza. Era una precisa grado. Poi dopo sette anni non c'era ragione. No, si dice. Qui abbiamo un Presidente del Consiglio che attraverso... Poi ho un'inchiesta aperta. Ci sono i pensi di carta. I finanziamenti dal Ministero dello Sviluppo Economico alla finanziaria regione toscana alle tasche del padre di Renzi ci sono andati. Però questo non fa scandalo. Fa scandalo per i giornali d'Italia. Ho letto qualcosa anche sul secolo, sul Fatto Quotidiano. E' finita la festa. Questo è il regime. Grazie a Francesco Storace per essere stato con noi, per averci dato la sua lettura delle cose politiche. Grazie ancora, buon lavoro. Subito dopo la pausa pubblicità, la prima edizione del nostro notiziario con Luigi Vittucci. Più tardi.